Certo che questo premio mi stimola andare avanti senz'altro almeno fino agli 80, però la mia agenda con il Don Gianmario è già piena fino ai 90 anni, quindi ne ho ancora per un po' davanti. Tu hai fatto tantissime cose insieme a tanti altri amici, insomma, c'è qualcosa di cui sei particolarmente orgoglioso? Ma diciamo che tutto quello che ho fatto al momento mi è piaciuto, mi è servito e l'ho fatto con tanta gioia. Scegliere un impegno preciso non saprei, potrei dire l'impegno che ho mantenuto per tutta la vita da quando ho cominciato a fare volontari e quello anche nella parrocchia. Come scriveva un tuo collega giornalista sull'informatore, ho supportato e ho sopportato ben tre prevosti, che non è facile. Qual è il criterio che avete scelto voi come comitato quest'anno per dare questo riconoscimento a Valentino? Negli ultimi anni si è cercato di individuare delle persone all'interno di associazioni e quindi con un premio che andasse a tutta l'associazione. Quest'anno invece abbiamo voluto ritornare alla formula iniziale e individuare una persona che fosse distinta in modo particolare nel volontariato, non solamente nell'ultimo anno ma proprio nella sua vita. Come dicevo all'inizio è una persona che è cresciuta a pane volontariato da quando era piccolo e quindi io credo che non ci sono stati problemi all'interno della commissione a confermare questo nominativo. In occasione della premiazione del Franco Bollodoro, un riconoscimento a tanti volontari, a persone che hanno lavorato in tutti questi anni, ma in modo particolare un premio è andato al Corpo Volontario del Cercorso di Omenia per l'opera che hanno svolto, prezioso e davvero straordinario impegno durante il Covid-19. Siete orgogliati, Presidente, di questo riconoscimento e di questo premio? Siamo molto orgogliosi e speriamo che la cittadinanza lo abbia capito quello che abbiamo fatto. Non ci siamo fermati in quel periodo, è stato veramente nel momento negativo una positività nel riuscire a vedere quanto comunque riuscivamo a dare. Ci siamo riusciti, abbiamo cercato aiuto, la popolazione ha risposto, ha risposto anche economicamente con l'aiuto. Siamo riusciti anche a raggiungere una cifra per cui metteremo in cantiere, parteciperà parzialmente al mettere in cantiere una nuova ambulanza all'uso di tutti.